La questione del turismo ad Arezzo, criticità, circostanze proposte per il rilancio di un settore cruciale per la città. L'indagine condotta dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo, in sinergia con Palazzo Cavallo, riporta uno studio sui dati e le opinioni dei cittadini e degli operatori impegnati nella cultura e nel turismo locale. Un settore, secondo il sindaco Fanfani, da considerare oggi come un'impresa, da approcciare con un metodo industriale. Questa è una città industriosa che ha vissuto dei momenti particolarmente felici con il sistema industriale. Oggi, per le parti che sono lasciate libere dalle grosse crisi in cui l'industria è, si può creare un'imprenditoria sussidiaria in tema turistico, però va fatto in maniera industriale, va gestito non come una serie di occasioni, ma come un'impresa vera e propria. Il sistema turistico, come è gestito in questa parte della Toscana, è un sistema inadatto, antico. Come si può far confluire i turisti verso quelle che sono proprio le eccellenze del nostro territorio? Il discorso è molto complesso. Alcune cose sono già in atto, in viaggio verso questa direzione, verso questo obiettivo. Chiaramente dobbiamo integrarle, dobbiamo dirci molto onestamente, correttamente, quali sono le difficoltà che ci sono e ce ne sono tante. La percezione che c'è della Toscana, della regione tutta, all'estero, è di un certo tipo, proprio perché trovano quello che lei mi ha appena accennato, cioè voglio dire chiaramente una situazione di una qualità ambientale, a prescindere da quello che poi è il discorso che riguarda la storia.